Buongiorno, sono Daniela Colli, fondatrice dello studio di architettura Colli Daniela Architetto di Roma. Vorrei innanzitutto ringraziare Simona Finesi, Angelo Dada e Platform per avermi invitato qua a questa fantastica mostra e al Festival Architetual. Il progetto di cui vi parlerò oggi è un progetto di interior design ed è Vita Covengarden realizzato a Londra. Abbiamo ideato il primo concept di Vita circa 15 anni fa. Vita è una catena che ha iniziato la propria attività nelle stazioni ferroviarie e si è espansa man mano all'interno delle maggiori città italiane. Il progetto in questione si trova a Covengarden. Covengarden è uno dei più iconici diciamo aree della di Londra e il progetto è localizzato tra i 40 teatri del West End, il Royal Opera House e Strand. Covengarden è uno dei luoghi più iconici di Londra, è la sulla piazza all'italiana esistente nella città di Westminster e il Covengarden Market è uno dei più noti listed building del Regno Unito, è un listed building di grado due, significa che ha una protezione, una sorta di eh protezione come la nostra sovintendenza e mh per quanto riguarda il Westminster Council. La storia del del dell'area della piazza risale diciassettimo secolo quando è stata eh realizzata come è stata trasformata in un'area pubblica come eh una grande piazza all'italiana con grandi portici lungo la chiesa di Saint Paul. Per oltre trecento anni il il è stata utilizzata come mercato ottofrutticolo e solamente nel millenovecentosettantaquattro è stata trasformata in uno shopping center molto prestigioso dove negozi alla moda e ristoranti trendy hanno accolto hanno attratto eh tantissimi turisti. Oggi la piazza è quanto mai eh considerata una destinazione globale ed accoglie fino a quaranta milioni di visitatori ogni anno. La piazza è un vero e proprio teatro all'aperto. Ogni giorno eh tantissimi performance di strada si esibiscono davanti alla chiesa di Saint Paul e l'area offre in questo oggi offre ristoranti stellati ma soprattutto attività culturali e di intrattenimento. Situato nella nella torre est del del Covent Garden Market Vita si inserisce in un programma più ampio di riqualificazione dell'area dove ehm area che è prettamente turistica si è trasformata in uno dei quartieri più di tendenza della città. La piazza vivace e creativa guarda oggi al suo futuro e al cerca di richiamare un pubblico cosmopolita in cerca di esperienze esclusive. Il progetto è organizzato con su tre piani con un ampio deore esterno e si affaccia sulla piazza gremita di turisti. Due terrazze sono abbiamo due terrazze al piano superiore destinata a lunch bar e ehm questa da questa sezione potete vedere un po' quello che è lo sviluppo eh sui tre livelli. Eclettismo e sperimentazione sono gli ingredienti fondamentali di Vita Covent Garden, pareti linee, freggi, superfici laccate e metalli preziosi danno origine a spazi glamour da un secondo uno stile italiano non convenzionale. questa è la pianta del piano terra. Il piano terra ha una superficie molto piccola di solo i ventotto metri quadrati e costituisce l'elemento di cerniera tra due tra due livelli di dimensione maggiore, il piano superiore dove è ubicato il cocktail bar e la lounge e il piano inferiore dove è ubicato il ristorante. Eh l'area esterna accoglie fino a cento eh posti è stata allestita con i tavoli e le sedie in legno tipi standard del mercato di Covent Garden è coperta da grandi ombrelloni dotati di lampade infrarossi. La particolarità di questa area che contrariamente a quanto accade in Italia anche a dicembre è comunque piena di persone che si godono questa questa quest'area come se fosse un break della frenesia della città. Un vero e proprio banco bar serve per gestire la le due parti esterne alle spalle della reception una zona di servizio eh è collegata attraverso tre montavivande alla cucina che è collocata al piano inferiore. Varcando una porta estile vittoriano si entra nella reception. I clienti vengono accolti da un da un desk in MDF fresato eh laccato colore oro satinato e con pareti rivestite in boiserie in legno di palissandro e laccate verdi. Il pavimento è in marmo verde alpi. La scala eh con i suoi gradini in legno di palissandro rappresenta il cuore del progetto e si snoda senza soluzioni di continuità dal piano interrato al piano primo e connetto eh su questo setto di 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 marmo verde alpi. Ovviamente il marmo verde alpi è solamente un rivestimento che ehm contiene tutta la struttura portante in acciaio. La 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 questo setto connette visivamente fisicamente tutti e tre i livelli ed è sovrastato da un eterio chandelier con delle macro foglie in in ottone. Allo sbarco della scala potete ehm possiamo eh accedere direttamente al cocktail bar. Il cocktail bar è dominato da un bancone rivestito in tubi in ottone lucido con un piano fortemente materico in verde alpi dove vengono serviti vini da degustazione signature cocktail preparati da acrobatici bartender. Il piano superiore interagisce con la con la città attraverso delle ampie vetrate mentre eh superfici spenchianti amplificano lo spazio eh materiali di pregio come palissandro, marmo, vetri e velluto immeggono i clienti in una un'atmosfera dal sapore contemporaneo. L'intero design le attinge a piene mani dalla cultura architettonica degli anni sessi sessanta da cui riprende la raffinatezza dei dettagli costruttivi e decorativi, la concezione dello spazio come scenografia dell'esistente, un mix di elegante ed ironia e le stilizzazioni geometriche. Il rombo costituisce la matrice geometrica del progetto dalla macroscala delle buiserie alla microscala della pavimentazione policroma in marmo. Qua potete vedere il primo e dopo del dell'area Lange. Come vedete sono spazi sempre molto difficili da 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 restituire a una realtà contemporanea perché comunque hanno delle forti presistenze eh ad esempio un aspetto molto interessante è stato il fatto che abbiamo dovuto mantenere eh questa parte qua che è proprio perché un list building c'è un edificio protetto abbiamo dovuto mantenere la vecchia eh canna fumaria che era presente in in a questo piano e un altro aspetto particolarmente complesso è stato che non era assolutamente possibile forare le pareti quindi tutti gli impianti e tutte le opere che abbiamo realizzato sono sempre passanti. Golden Globe è una famiglia di lampade disegnata dal nostro studio per eh Vita Coven Garden sono è una famiglia eh nel senso abbiamo realizzato sia le le lampade a sospensione le lamp le applic e le piantane da terra. Sono realizzate in acciaio galvanizzato colore oro lucido con globi in vetro. I globi hanno una superficie metallizzata pertanto quando sono spenti sono eh specchianti quando sono accesi eh emettono una luce calda e molto attrattiva. Due terrazze abbiamo due terrazze ubicate rispettivamente a nord a sud la prima molto più piccola e intima allestita con con divani in tondino di acciaio e grandi vasi con piante fuorite più ferite. La seconda ehm ha diciamo è dominata da questo lunghissimo eh bancone che si affaccia sulla piazza gremita di di artisti ed è proiettata verso l'iconica eh volta di Coven Garden. Questa è la pianta del del piano interrato. Il piano interrato ha una superficie di circa duecento metri quadrati ehm dove è ubicato il ristorante. Nelle aree eh con il pavimento policromo sono quelle dedicate alla clientela mentre le altre aree in grigio sono le aree di di servizio con la cucina la le vari i vari depositi, cantina di vini e tutte le aree per il personale. Questo questo spazio ha vari ambienti voltati e sono tutti sono ambienti che è un tempo erano dedicati ai magazzini del del sovrastanti negozi. Il pavimento eh policromo in marmo è ispirato da dalle opere del pittore futurista Giacomo Valla è composto da settemila pezzi di eh rombi e mezzi rombi in marmo. I marmi che abbiamo utilizzato sono Verde Alpi, Bianco Venato di Carrara, Travertino Giallo e Rosa Spring. La il questo di questo partner così eh chiamiamolo anche un po' ossessivo riesce a dare continuità e fluidità a tutti gli spazi frammentati della vecchia struttura portante. Queste sono diciamo eh tutto il susseguirsi della delle delle nicchie eh dove potete vedere varie situazioni dal divano avvolgente a eh al degli spazi ehm diciamo di connessione molto stretti tra una manica e l'altra fondamentalmente la pianta del piano interrato è costituita da quattro da quattro maniche collegate da collegate tra loro da questi piccoli archi. Questo elemento che eh vedete ehm ubicato sopra sopra queste volte è un elemento decorativo ma soprattutto è anche un elemento funzionale in quanto proprio perché non era possibile eh forare le pareti è stato creato un oggetto di design che corresse lungo tutti i passaggi e mh contenesse aria condizionata, impiantanti incendio, illuminazione, tutto quanto altro necessario. Questo è una breve ehm sono delle immagini del prima e dopo dove potete vedere gli scavi che sono stati fatti e questa è una delle diciamo delle maniche più grandi eh dove abbiamo potuto ehm disegnare un divano lineare e quindi può contenere fino a dieci posti. Vita Covengar è un universo magico di forme e colori sapientemente mixati per sorprendere e intrantenere chiunque voglia farsi sedurre dalle emozioni e dai piacere della vita. Grazie.